Prima di tutto ringrazio voi tutti che siete venuti ad ascoltare questo concerto che sarà straordinario perché è una cosa unusuale, sassofono più arpa. Poi vorrei ringraziare la Casa della Carità e Don Colmeni perché come sempre tutti gli anni ci ospita e questa sera particolarmente voglio ringraziare la Casa della Carità perché si stanno celebrando vent'anni dalla fondazione della Casa. Per cui questo concerto in un certo senso è anche dedicato alla volontà di Don Colmeni, la sua energia, il suo entusiasmo. Vent'anni fa ho preso l'eredità da Cardinal Martini per portare avanti questa avventura, vent'anni che forse non si immaginava neanche lui così duri e quindi il nostro abbraccio, il nostro affetto vanno sicuramente a Don Colmeni con tanti auguri, tra l'altro vent'anni che è stata uscita. Per noi è un piacere ed è un onore sfruttare un evento così unico, così ricco di contaminazioni, un po' come siamo noi in Casa della Carità. Siamo molto contenti di poterci esibire questa sera in questo luogo che cerca di unire le culture, le provenienze, le origini diverse e per creare quella che è tutta la bellezza del nostro mondo. Non potrebbe esserci nulla di più bello se non unire le differenze. Stasera vi facciamo le varie distinzioni originale e non originale perché di fatto, come avrete ben capito, è una formazione un po' strana. Cioè vede praticamente sullo stesso palco uno strumento nobile come il sassofono o l'altro. E' anche la cellulina da casa, eh? Ma le chiamate ce le ho io. Cioè vede anche la cellulina da casa, eh? Cioè vede anche la cellulina da casa, eh? Questa sonata, quando l'abbiamo trovata ci siamo subito lasciati trasportare da questo stile di scrittura perché è ricca, è varia, è diversa, è allegra ma anche malinconica, è veramente tutti i colori del mondo che ci può offrire. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti